pizza per tutti nel centro storico di eboli il forno di vincenzo insieme a sodalis nell'ambito dell'evento storia di grani e pane comunità dall'io a noi ha dato corpo all'iniziativa nata per creare un borgo sociale per costruire un percorso per il durante e dopo di noi per i ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e in condizioni di fragilità un cambio di paradigma da un welfare assistenziale ad uno generativo di comunità il calendario di questi eventi partiti lo scorso 5 ottobre andrà avanti fino al 30 di questo mese con i prossimi eventi che saranno orazioni in comunità rigeneriamo il lievito e sforniamo il pane l'obiettivo degli eventi è di condividere insieme con la comunità del centro storico di eboli momenti di aggregazione aperti a tutti a